Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video di Infamous Econson e in questo video invece di farvi un gameplay vi farò vedere come ho sbloccato il trofeo platino tramite il trofeo esperto che era l'ultimo trofeo che mi mancava da fare quindi ho fatto la campagna tre volte, una volta come eroe e ho sbloccato tutti i trofei per gli eroi una volta come infame, ho sbloccato tutti i trofei come infame e l'ultima volta come esperto e qui mi sono dovuto ingegnare perché potevo farlo già dall'inizio ma non avevo capito come si cambiava la difficoltà per voi vi dico che la difficoltà si deve cambiare nella partita precedente quindi la partita che siete voi se volete iniziare una nuova partita in modalità esperto per sbloccare il trofeo in quella partita nella vostra dovrete mettere difficoltà esperto e poi iniziare una nuova partita tramite il menu quindi triangolo, quindi options, triangolo, inizia la nuova partita perché se no non ve lo salva comunque ho sbloccato tutti i trofei che non è stata una cosa davvero difficile ci ho messo 3-4 giorni ed ecco qui finita la campagna, congratulazioni la vittoria su Augustin, questa volta l'ho fatto come eroe una volta che faremo X ecco qui che si sbloccherà il trofeo inarrestabile e subito dopo tutto il mio potere quindi il trofeo platino bene, quindi spero che il video vi sia piaciuto ci ho messo un po' di tempo ma alla fine soddisfazione personale l'ho completato ci vediamo a tutti con un prossimo video di non so che cosa forse Watch Dogs? boh, forse andrò direttamente tra un mese, non lo so comunque ci vediamo a tutti con un prossimo video arrivederci, statemi bene grazie